Sport Lascoli, Bazzel, Pescara ed è ad un passo dalla zona salvezza oggi nel calcio la prima di Zeman con il Fano e due derby in serie D. Ed ora la giornata dello sport marchigiano con il calcio, la vittoria dell'Ascoli in serie B ieri contro il Pescara ma ci sono anche due derby in programma oggi in serie D, girone F, il basket e il volley. Lascoli mette a segno tre gol in una delle partite più attese del campionato di serie B, non solo motivi di classifica contro il Pescara ma anche di orgoglio in un confronto che ha le stesse emozioni di un derby. Le reti di Papa Vaigo, autore di una doppietta e l'autoretta di Zanon, permettono ai bianconeri di arrivare vicinissimi ormai alla zona salvezza della classifica, 29 punti al netto dei sette di penalizzazione che Lascoli sta scontando. Sulla panchina del Pescara è dunque andata male per Znedek Zeman.